Buonasera Manicomio di Arkham, oggi assisteremo tutti alla morte di... ...ehi Batman, facci piano, vado per me, ma che diavolo, che cosa mi importa, ma quello che... ...andiamo ragazzi, è solo un uomo, uno vestito da pazzo e armato fino ai denti, prendetelo! Parato! Prendi nota, devi ordinare altri scagnozzi di buona qualità questa volta. ... E così hai vinto ancora Peccato che io abbia ucciso tutti quelli che ti stanno a cuore Mentre eri impegnato a batterti Scherzavo Grazie a tutti